In Boronale poi c'era anche un'altra cosa, a parte questo ballettino così che io cercavo di raccontare quello fra il ballerino, Carlo mi ha detto senti poi io il giorno che mi sposo, la scena del matrimonio, tu canti l'Ave Maria di Schubert, l'Ave Maria, ma non è una rottura di scala, mica fa ridere. Allora mi sono ricordato una cantante americana che si chiama Nancy Wilson che faceva un finale che diceva, 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 ave Maria grazia plena, ave Maria grazia plena, ave Maria grazia plena, ave Maria grazia plena, ave Maria grazia plena. E quando, Carlo, io l'ho cantato in chiesa, davanti ai preti e ste le fatti, e stavano così, diceva, tu sei matto, ma che è sta cosa, ma che fai, carmelo bene? Invece è stata una botta di follia mia, sai, quelle che beviano a me così, ancora adesso sono 58 anni e ancora sto a fare sta storia, quindi pensa che è matto che ero.